state ascoltando il meglio di AQPP su M2O a proposito di canzoni c'è la classifica delle canzoni più belle del momento quelle proprio che nessuno ce l'ha sei sicuro? no però però mi piace dire così la rotto voice chart no è lui so già dirvi cosa fare voglio andare a ballare è venerdì mattina magari aspettiamo qualche ora in questa notte lunga e nera e bere solo rum e pera ma quale notte lunga e nera c'è il sole fa caldo è arrivata la primavera poi il rum e pera alle dieci del mattino solo lei lo può dai basta è certo è la colazione del campione volete una stagione? ma non riesce a parlare più senza rima è la musica la musica la musica col botto è la classifica classifica di rotto vabbè rotto no 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 vabbè rotto prima che il botto lo facciano le persone che magari sono in macchina adesso e mentre guidano stanno ascoltando i suoi deliri perché non iniziamo con la classifica iniziamo siete sicuri? perché questa secondo me Danny Brogna l'ha scritta per voi che non ci avete manco un euro per comprarvi le partite su Sky e allora vai col calcio e streaming vai Daniele che ieri è venuto a trovarti grazie Daniele let's go il calcio è la mia passione se potessi guardare ogni partita ma non ho un mediaset premium neanche Sky io sì e per questo ogni volta mi connego per cercare di vederli almeno online ma non ci riesco mai sono sicuro che questa mia affermazione trovi il consenso di migliaia di persone lo so che questo è legale come è legale far pagare 10 euro a partita se non hai l'abbonamento io bimbatto in tanti siti e sottositi che prometto la diretta dell'evento ma mi viene l'esaurimento e mi ritrovo a vedere le partite che si bloccano ogni istante e per di più con il commento in finlandese oppure in arobo in catalano in francese, in latino e in messicano ma io conosco a malapena l'italiano e io invece di vedere la partita passa il tempo a chiudere le finestrelle qua e là è vero che sono tempestate di pubblicità e quando vuoi trovo un link niente male l'arbitro metta il fischietto in bocca ed effetto il triplice fischio finale è una new entry colcio in streaming di Dani Brogna ma è tutta nuova la rotto voice chart di questa settimana dopo un grande uomo una grande donna anche lei recente ospite di A.C.P.P. in quanto vero fenomeno anche lei è una new entry oggi direttamente al secondo posto ma chissà dove sarà domani è la sola cesira e vada numero due numero due let's go ma fra Grillo e Bersani vedrete lo so se anche io la conosco la fine che poi drita e ritrita sembra scritta perché poi rivince il nano non è già qui non è già qui non è già qui ma non è letto in nascosto anche io non vedo dopo ci sono dei fischietti cuoi تو pressedio li abbiamo cristiani hep 여러분들 Sono pazzi amore, sono pazzi amore. Un elemento radicale. Spode stato anche il gruppo di ACO Pepe. Dopo tre settimane di dominio, ma il primo posto se lo merita tutto. Uno dei rarissimi casi in cui il cantante che si prende gioco di se stesso. Un grande applauso a Marco Mengoni, che gioca e si canta la sua parodia insieme a Giovanni Vernia. L'Essenziale. No, no. E dai, qui non si capisce chi è Verni e chi è Mengoni, infatti. E dai, qui non si capisce chi è vero. E dai, qui non si capisce chi è vero. E dai, qui non si capisce chi è vero. E dai, qui non si capisce chi è vero. E dai, qui non si capisce chi è vero. Bravi! Se anche voi siete dei tipi essenziali, salvatevi la Rotto Voice Chart come suoneria del cellulare e rimorcherete di brutto. Ciao dal vostro Rotto Voice! Ciao dal vostro Rotto! Grazie a tutti